Ancora una giovane vita che si interrompe sull'asfalto delle strade agrigentine. Ieri notte, lungo la strada statale 115, a bordo del suo scooter, un piaggio Liberty, ha perso la vita Giovanni Ferlisi di soli 18 anni. L'incidente è avvenuto in contrata Vincenzella, a Porto Empedocle, nei pressi del bivio per Villa Seta. Il centauro, assieme ad un gruppo di amici, aveva deciso di chiudere la serata con un cornetto caldo da andare a consumare presso un noto bar di Porto Empedocle. C'era quasi arrivato Giovanni alla colazione notturna, che per tanti giovani è diventato un rito prima di andare a dormire. Mangavano meno di un chilometro all'arrivo del bar scelto per i cornetti, quando, per causa ancora in corso di accertamento, non appena uscito dal bivio di Villa Seta per immettersi sulla strada statale 115, il Liberty si è schiantato con un autocompattatore per la raccolta dei rifiuti della ditta Icos, che si stava recando a Licata per effettuare il servizio. L'impatto del Cinquantino con il mezzo pesante non ha dato scampo al giovane Agrigentino. Inutili sono stati tentativi dei sanitari del 118, giunti subito sul posto, di rianimarlo. Giovanni Ferlisi è espirato sull'ambulanza che lo stava trasportando all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sul luogo dell'incidente si sono tempestivamente recati i poliziotti del commissariato frontiera di Porto Empedocle e gli agenti della sezione volanti di Agrigento. I rilievi di rito, per risalire all'esatta dinamica dell'incidente invece, sono stati effettuati dagli uomini della polizia stradale di Sciacca.